sabato 7 maggio spazio sociale visrabbia di avigliana se pendisci lo sbirro che hai nella testa tieni il telefono in tasca e vieni a pogare dalle 9 e mezza concerti benefit notar con one day in fukushima da salerno power trio pesi massimi del grind core misofonia power violence noise core che ti fa odiare dal vicinato bergamo grind massa chiudata boot and dark non hanno paura di usarlo ego ormando paranoia torino core punk a velocità smodata a seguire dj set più che balengo by bruschetta frank tenaglia ed mal paris al mic trash industrial e dark techno bar a pressi popolari con calcetto e ping pong per tutti benefit notar rispetto al lavoro le persone porta la distra la felpa e go diega linea e 40 avigliana torino bar a pressi popolari con calcetto e ping pong 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 pong